Civile 2 Azzurra CareFight Vanguard Discesa della Re dei Cavalieri Bt01 Check Questo si sfida Ciao Tuvers Ciao Boss Ciao Tuvers Benvenutoss Benvenidoss Benvenoodoss Benvenaadoss 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 Se mi piace Che buoni Ma no Tossi, allora abbiamo Carfight Vanguard Pensavate che c'eravano dimenticato di Carfight Vanguard Ma non è vero Abbiamo fatto un timeout ed eccoci qua E ripartiamo da BT01 Ma tutta la vita E sbusteremo uno sbusto in sfidozing Boss vs Kiki Alla caccia del signor Alfred Ancora ci provi Eh? Ancora ci provi Eh, sì Proverò a battere Kiki, sarà dura, ma ce la faremo Oh, aspetta, aspetta Come è successo? Il cestino Kiki corsa al cestino giustamente Senza il cestino La carta non c'era, capito, no? No, ve ne infiliamo le buste Eh! Scegli tu Kiki qual è il box che preferisci? Bene, bene, bene E si parte 30 bustine Il meglio è Alfred Chi vince Alfred vince la sfida E anche Kaiser Asura Anche Kaiser Asura? Va bene Dai, 15 busti a testa Kiki, 15 busti scegli tu? Vai Scegli tu le due Vai, io prendo queste Attenzione, mi sono esplose in mano Buon segno Contale 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5 15 e 15 E si parte Giuggettone si va Vai Vi ricordo che tutte le carte che trovate in questo video Le trovate sul nostro sito Che vediamo tutte le carte singole di Carpath Vanguard www.lppicolati.it Slash FF Vanguard St gaggi to new Allora, la Gracie Tripla R associate Duppia R Le carte che vengono a bella sfilozza E si continuerà con altre buste 14 buste ancora a testa No, no, rara triste Rara triste Facciamo dei retubers Rara triste Rara triste e rara Comodoro, il comodoro, il comodoro Frank il mostro Frank il mostro Frank il mostro Frank il mostro Attenzione Va bene, Fragmantano è mitico Grande Fragmantano Attenzione E, e, e Altra R Carter Rara Galantine Yes Ti vuole qua Ah, stai dividendo? Sì, vabbè, intanto poi Le dividi tu, non ne ha problemi Ah, esatto Non pensavo che le dividiamo adesso Ci penserebbe anche che sistemarle Attenzione Bubble Rare Aleph Aleph, Aleph Come è Aleph? Aleph, il cavaliere d'ago? Guarda, mettilo da parte e basta E impara, impara giocare la carta Un'altra R Allora, questa R Due doppie R E una triple R Per una triple R Per boss Che vediamo che è in vantaggio In questa sfidozza Ma è ancora lunga Mancano ancora un sacco di buste Discesa della Rati Cavalieri BT01 Il Mago Lasanga Il Mago Los Angeles Il Mago Lasanga Rara che si chiama Woom My Story Attenzione Scusate Cos'è successo? Ho trovato l'Alfred No, non è vero Si è trovato l'Alfred Non è vero Alfred Rai dei Cavalieri Scusami Insieme a questa Ho stravinto La sfida finisce qui Possiamo andare tutti a casa Però c'è ancora l'ASP L'Alfred SP Eh Attenzione Boss potrebbe trovare Guarda Ho trovato un'altra WR Fichissima Pensavo all'Alfred SP Me ne andavo Attenzione Tei ascolpo di Viverna Cazzo Rara Però 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 La sfida è ancora aperta Attenzione Re di Spade Rara Re di Spade E due di denari Non è vero Il gioco è brutale Mi sta telefonando il tizio Campo Massimo Di Car Fight Il signor Car Fight Vanguard Direttamente dal Giappone Si si lui From Japan Da Giappone con il furgone Attenzione Cos'è 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 Io ho Barry Il Guardia Novi Viverna E' ottimo il Barry Si Ma è ottimo perché Ottimo Per il gioco è buono Ok quindi WR Ma attenzione Kiki è leggermente In vantaggio Perché ha trovato Un Alfred E il boss Busta Apollon Apollon combina guai Eccolo qua Apollon Sono triste Apollon combina guai Sono triste Perché Che è successo Apollon combina Apollon Ha scritto qui Non è che io dico cose Che non sono cose Attenzione Attenzione Il distruttore Delle lame Triple Rare Com'è? Buona Buona E' come Alfred No Vabbè No E' come il Bars Galt E' ne potuto lì insieme Che va bene così Allora Io chiedo i tubers Io ho trovato due Triple Rare Triple Rare Chi chi una sola Ma ha trovato Alfred Chi è che ha vinto? No Aspetta Metti in gioco anche le doppie Dai Vabbè Gioco Vagano anche le doppie Facciamo finta che vengono anche le doppie Hai trovato una bella Conviene a te Sì No va bene Il tubers Diteci chi è il vincitore della sfida Nei commenti di questo video Drago Vortice E' un bel Tar Personificazione della Lancia Uah E continuiamo Ma te ma quante buste ti mancano? Dove buste E' uguale Siamo uguali Attenzione c'è ancora Frank il mostro Io ho un'altra rara E ultima bustina ma sono già uscite le 3 Triple Rare Per BBT1 sono solo 3 in un box Quindi purtroppo Purtroppo Mi sa che boss non vince O forse si Distruttore la battaglia Chiediamo E' il tubers Siamo un terzo Chi sei se un terzo? No com'è? Chi ha vinto no? Vediamo chi ha vinto Chi ha vinto? Vabbè tanto so già i tubers cosa diranno Bene 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 Dai ci siamo sbustiti questo BT1 A seguire arriverà anche il BT2, BT3, BT4 e il GB6 Faremo le sfide con tutte le spazie uscite fino ad oggi Che dire Kiki? Che dire i tubers? Vi ricordo che tutte le carte singole le trovate sul nostro sito www.allabipiccolati.it Slash CF Vanguard And da boss e da Kiki è tutto Ci vediamo alla prossima Ciao 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 E diamo un occhio anche a una statistica di quello Per vedere giusto giusto cosa è uscito In questa BT1 Prima serie di Carfight Vanguard versione italica In inglese cosa siamo molto più avanti Però l'italiano è arrivato da poco qua nel nostro paese Vabbè ci sta anche la statistica 3 Triple Rare 5 WR E il resto delle carte rare Quale con la R Carte rare ovviamente si trovano anche Magari qualcuno in maggior parte La maggior parte in monocopia Però alcune anche in 2x Vedremo poi la statistica anche per le prossime sbustate Molto bene Come vai? Come va? O stands forever Anche in mino M-interessantica Sbustate EFF M-m-m-m- raggi